Luca non è scomparso, Luca è nel mio cuore, sempre. Lui ed io siamo stati, siamo, i portabandieri di un genere teatrale che non può morire, che non deve morire, che ha la sua giustificazione nel fatto che conquista pubblico al teatro. Il teatro dei De Filippo, di Peppino, di Eruardo, di Titina ha questo grande merito tra i tanti. E aver conquistato tanta gente al teatro, a farli venire al teatro, ad amare il teatro, non come una cosa noiosa, ma come qualcosa di piacevole, che ti arricchisce. E questo molti, il pubblico lo ha capito e ancora oggi viene ad assistere al teatro dei De Filippo. Io voglio concludere con questo augurio, non che il teatro sopravviva a tante difficoltà che ci sono oggi, ma che il teatro viva, viva sempre, sempre più forte, perché c'è gente che lo ama come lo amate voi. Grazie.